Svizzera Italia confronto dopo meno di una settimana che mi trovo a Zurigo. Quando arrivi a Zurigo il comune ti dà un kit di benvenuto, con tutta una serie di informazioni e servizi gratuiti per tutti i nuovi arrivati della città. Tutto questo lo ottieni quando arrivi nella città e ti devi reccare di persona in questi uffici. E tu dirai devi aspettare un sacco di tempo, un sacco di fila, e invece no, non ho aspettato niente senza nemmeno prendere appuntamento. E questa è solo una delle tantissime differenze che sto notando. E se ti possono interessare altre informazioni tipo questa, fammelo sapere nei commenti, se no non continuo questa serie. Ovviamente ti condividerò più informazioni di cultura finanziaria in merito al mio trasferimento in Svizzera direttamente sul mio canale YouTube.